tutto nella giusta misura impariamo qualche vocabolo legato a misure e quantità quanta acqua c'è nella bottiglia poca quanti soldi hai nel portafogli non abbastanza quanto zucchero prende nel caffè ancora un po quanto cibo avete portato tanto cosa hanno in comune tutte le mie domande giusto cominciano tutte per quanto quanto quanta quantos quantas quanto può essere un modo di chiedere quanto costa ma a qual prezzo io non compro niente nulla è pazzesco anche se qui è tutto bellissimo io non comprerei tutto niente nulla nada nada è il contrario di tutto 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 abbiamo comprato così poco ma speso molto poco poco oppure molto 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 il venditore l'ha detto che lui l'ha pagato di più beh di solito costa meno ai venditori e a noi di più così è il commercio meno meno è il contrario di più volete salire sulla torre spiacente io resto qui per me è già abbastanza lì ci sono troppi scalini abbastanza sufficienti sufficienti è il contrario di troppo di mai di mai loro salgono sulla torre io resto qui un altro po di compere ancora un poco un po un pochino ma un pochino ma gli ci vorrà all'incirca mezz'ora non esattamente ma all'incirca intorno di cerca di aspetta che conto quanti spiccioli mi sono rimasti basteranno per un caffè cornetto mi pare di sì più o meno ma sono al bar a guardare tutti i miei acquisti ero convinta che fossero di più è tutto è solito è solito è solito per oggi è sufficiente c'è 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 tornano dalla torre com'era eccezionale ne valeva la pena mi dicono veramente serio serio magari ci vengo domani forse talvez talvez è possibile abbreviare il percorso arrivando da questa strada certo è possibile no non è affatto possibile attenzione alla differenza è possibile 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 è il contrario di non è possibile impossibile impossibile sei sicura sì certamente claro claro come sempre hai ragione tu ovviamente certo senza dubbio sicuramente certamente certamente e io invece penso che se ne parla proprio non non esiste figuriamoci sta scherzando di di